ben trovati se c'è soltanto qualcuno che vuole che vorrebbe convincermi a farmi pensare male di andrea agnelli si sbaglia ma si sbaglia di grosso perché qui per quanto mi riguarda andrea agnelli rimane il più grande in senso assoluto nella storia del calcio juventino e del calcio italiano dico bene italiano per questo motivo per questo motivo vorrei vedete prendere un pochettino non ci riesco vediamo se ci riesco mettere un po di gel perché non ci riesco a mettermi il gel lo metterò la prossima volta anzi forse ci sta un po di gel attenzione eccolo qua perché metto il gel metto il gel perché ritengo che la pulizia delle mani è la cosa più importante che ci possa essere in tutti i punti di vista e agnelli è un uomo dalle mani pulite dalla coscienza pulita dal cervello pulito ma ha avuto nella sua vita una sola colpa e non è una colpa da poco voi mi direte quello di aver confermato il contratto quadriennale ad allegri a parte quella non è è una colpa ma non ha pagato per questo motivo lui ha pagato per aver avuto una sola colpa quella di essere stato il presidente più vincente della storia del calcio giuventino e calcio italiano è diventata una colpa come per la triade quando si vince tanto quanto si trasmette l'impressione di essere bravi perché non vi sto qui a delencare le 21 vittorie di agnelli con le nove scudetti consecutivi che è un'epopea irripetibile fra 100 200 300 400 anni si parlerà della juve di agnelli quella dei nove scudetti consecutivi ogni volta che si parlerà di calcio italiano si penserà ai nove scudetti consecutivi come con combi rosetta e caligaris il quinquennio delle vittorie si parla di buffon bollucci barzagli e chiellini è un'epopea fantastica è un'epopea talmente grande che oggi non ci accorgiamo di averla vissuta e questo è imperdonabile per gli anti juventini è totalmente imperdonabile non mi meraviglio che l'avventura di andrea agnelli alla juventus è finita facendolo scappare di notte non mi meraviglio perché troppo grande il personaggio troppo importante il personaggio troppo storico e il personaggio per rimanere nel calcio a certi livelli ed essere ed uscire diciamo con il vento in poppa no lo hanno fatto scappare di notte per quanto mi riguarda questo è un fatto aggiuntivo alla grandezza del personaggio è un uomo eccellente sotto tutti i punti di vista ed evidente che non sto qui a parlare dell'acquisto di ronaldo piuttosto della questione dello stadio piuttosto del cambio di simbolo piuttosto dei grandi movimenti delle grandi innovazioni che ha fatto non mi meraviglia che lo hanno fatto che lo hanno buttato fuori in questo modo troppo grande il personaggio agnelli è la nostra vita per chi ama la juventus andrea agnelli ci ha tolto gli schiaffi da faccia dopo calciopoli andrea agnelli è andato oltre più rosee aspettative quindi se c'è qualcuno ancora che mi viene a parlare dico tifosi della juventus a parlare di agnelli come il male assoluto e francamente non ha capito nulla della juventus credo della vita perché se è vero come è vero che ha commesso errori inevitabili che hanno portato a sconfitte la cacciata di sarri è stato un errore gravissimo la presa di pirlo piuttosto che quella di allegri voi sono stati degli errori ma solo chi non operano sbaglia ma rispetto alla grandezza del personaggio sono errori rispetto all'epopea che ha scritto sono erroretti come può un tifoso della juventus mi fermo mi fermo perché mi sembra strano dico come può un tifoso della juventus che ama la squadra non riconoscere questa situazione questa grandezza questa storicità e allora a me vorrebbe qualcuno far credere che non è stato il più grande o solo perché ha preso allegri e da abbiurare da criticare ma che state dicendo ma voi che state dicendo questo è il personaggio più grande mai avuto che in termini calcistici ha superato il padre ha superato lo zio senso assoluto perché rispetto al papà e allo zio ha avuto la rapacità la camaleonticità l'aggressività diciamo l'essere stato un cannibale che hanno portato a trionfi a trionfi ma non a trionfi degli scudettini piuttosto che della coppetta dei campioni o piuttosto che della coppetta d'italia no di un'epopea nove scudetti consecutivi già vincerne uno c'è chi ci mette 33 anni che ci mette 15 anni che ci mette 20 anni ma vincerne nove di seguito cioè ma vi rendete conto della grandezza del personaggio vi rendete conto di quanto questo uomo abbia interpretato la juventilità abbia incarnato la sete di vittoria della juventus ma vi rendete conto della sua grandissima ed eccellente serietà poi finisce che lo detronizzano nel modo più logico possibile con le fake news con una invenzione come capita ed è capitato nella storia alle migliori figure epocali cioè ancora non si sa perché andrea agnelli è fuori dal dal juventus dal consiglio di amministrazione della presidenza se si considera che le accuse di santoriello sono state rigettate dal gip sono state bloccate dal group e sono al vaglio della cassazione per l'incompetenza territoriale dello stesso santoriello che non poteva agire per un bilancio preciso e onesto senza una ipotesi di reato e solo ed esclusivamente per una rilevazione della consop per la quale santoriello non poteva intervenire non essendo competente c'è voluto un imbroglio per cacciarlo via c'è voluto una macchinazione un vergognoso macheggio per metterlo alla porta troppo grande è stato il personaggio un re un principe questo è andrea agnelli e la stampa corrotta vergognosa riesce a penetrare nel sentimento degli juventini narrando diversamente narrando cose non vere io amo andrea agnelli il più grande di tutti lo amo perché andrea agnelli è stato l'uomo della rinascita della grande ripeto epopea bianconera non gliel'hanno perdonata chi ama la juventus deve amare andrea agnelli perché l'incarnazione fedele dello stemma bianconero del logo juventino il vincente l'uomo della grande innovazione l'uomo della grande e popolare ascesa della juventus quindi per quanto mi riguarda ve lo dico apertamente chi ama andrea agnelli si può definire juventino vero chi critica andrea agnelli francamente ho dei dubbi perché ripeto ha fatto delle cose sbagliate come come allegri è stata la cosa più sbagliata che ha fatto prima e dopo ma un vincente del genere può anche permettersi di sbagliare e dove è cominciata la sua discesa quando ha capito che non si poteva fare in europa più un calcio propositivo lui che si va a comprare cannibalescamente ronaldo avverte capta che il calcio europeo di cui era presidente con la eca era a rischio per cui fa la proposta insieme con barcellona e real madrid mica con l'inter e la san meredetese con il barcellona e real madrid due dei club più grandi al mondo insieme alla juventus che è considerata uno dei club più grandi al mondo anche e soprattutto per andrea agnelli non so se vi è chiara questa questa cosa aspettate giusto minuto eccomi qua con i club più affermati al mondo in europa cerca di creare la superlega perché perché il calcio inglese nel frattempo era diventata la superlega perché vedeva che gli errori di manchester e pari san germain soprattutto nel fair play non venivano sanzionati si è accorto che il movimento strano c'era quando platini suggeriva suggeriva guardate che seferin e infantino sono due usurpatori di poltrone seferin macchinava in maniera vergognosa con gli arabi ai quali ha aperto la porta e il portone e anche l'ingresso totale e infantino imbrogliava in maniera determinante in catara dove per organizzare quel mondiale sono stati fatti imbrogli su imbrogli su imbrogli da infantino e agnelli il più vincente della storia della juventus tra i presidenti più vincenti d'europa in senso assoluto non poteva mai sopportare da presidente dell'eca un'invasione del genere in quel momento ci meravigliamo tutti quanti perché va a fare la superlega io ero apertamente a favore lascia l'eca lascia l'uefa e va là perché non voleva essere responsabile di questo scatafascio attuale non voleva avere sulla coscienza l'ingresso degli arabi se n'è andato e a chi hanno messo a presidente dell'eca al suo posto un arabo cioè ma vi rendete conto il tutto poi accompagnato dal coro anti juventus che in tutta Europa partendo dagli inglesi ha ostacolato il progetto ed è per questo motivo che lui è stato preso di mira aveva intuito prima di tutti quello che stava succedendo preso di mira dicevo ed è stato fatto fuori per quanto mi riguarda è più grande in senso assoluto in senso totale senza leggere e scrivere e più vado avanti e più mi convinco perché oggi quotidiani redazioni sportive televisive e soprattutto istituzioni federali non gli chiedono scusa perché è stato l'unico in Italia e in Europa ad intuire gli effetti devastanti della rivoluzione araba e a cercare di mitigarne gli effetti lo attaccavano perché dicevano che con la superlega voleva distruggere il calcio europeo ed è un'accusa dalla quale noi juventini ci siamo dovuti difendere e addirittura ci hanno tolto punto di penalizzazione in Italia l'obiettivo di Andrea Agnelli era quello di salvare il calcio europeo l'obiettivo di Andrea Agnelli era quello di riportare il calcio europeo alla condizione giusta per respingere l'assalto arabo lo scrissi all'epoca però mi accorsi quando dissi la superlega non nasce contro l'UEFA nasce contro gli arabi andatevi a leggere su tuttoyove.net andatevi a vedere i miei video del tempo ma non su youtube perché non ci stavo su youtube stava solo il canale così dove c'erano manifestazioni poi da qualche anno da qualche poco meno di un anno che sono sto scegliendo questa piattaforma per comunicare le mie impressioni come facebook e come altre quindi oggi dovrebbero dovrebbero chiedergli scusa tutti ad Andrea Agnelli che ritengo sia un grande personaggio e ancora dovete vedere che faranno gli arabi vedrete che faranno gli arabi vedrete azzereranno il calcio europeo e la Champions League alla quale hanno privato la Juventus di partecipare pur avendolo meritato sul campo costituirà una coppetta del nonno rispetto a quello che faranno gli arabi se non li fermeranno se non richiameranno Andrea Agnelli e lo metteranno a capo dell'UEFA solo così solo con un Agnelli al capo dell'UEFA ma devono fare presto solo con Andrea Agnelli a capo dell'UEFA o a capo della FIFA si può salvare il calcio in questo momento altrimenti la discesa corre intrapresa siamo all'inizio della fine del calcio europeo salvarlo poi sarà molto difficile perché gli sponsor andranno tutti là e sarà una valanga che si porterà per primo Seferin e Infantino i due usurpatori di poltrone coloro che hanno sventuto il calcio europeo il calcio mondiale agli arabi uno da presidente dell'UEFA l'altro da presidente della FIFA con il Qatar lo hanno praticamente sventuto sono i liquidatori del calcio li chiamate Agnelli fate presto altrimenti sarà dura molto dura e c'è che in Italia anche tra i tifosi della Juventus si permette di mettere in discussione un uomo dalla grandezza simile non avete capito niente questa gente non ha capito niente andranno in ginocchio da Andrea Agnelli per salvare il calcio lo dico adesso come dovete andare la proprietà della Juventus per salvare il calcio mi fermo qui vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube Sergio Vessicchio ad attivare la campanella delle notifiche e a mettere un like se lo ritenete opportuno anche a fare un commento forza Agnelli viva Agnelli più grande più grande di tutti grazie 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 a tutti.